Un finanziamento complessivo da 7 milioni di euro per il restauro e la valorizzazione di quattro parchi e giardini storici di Firenze, le aree verdi delle Cascine, Villa Strozzi, Fortezza Dabbas e Pratolino. E quanto prevedono le candidature ai fondi PNRR presentate dal Comune Città Metropolitana? Vogliamo che il PNRR segni davvero una decisa svolta ambientale per il nostro territorio, ha detto il sindaco Dario Nardella, a partire dalla tutela e valorizzazione dei grandi parchi, delle Cascine, di Villa Strozzi e di Pratolino, ma anche della riqualificazione di giardini che vogliamo restituire ai cittadini sempre più sicuri e vivibili, come quelli della Fortezza Dabbasso. Il progetto per il Parco di Pratolino prevede di far tornare a scorrere l'acqua nelle vene del Colosso dell'Appennino, mentre per il Parco delle Cascine l'intervento riguarderà le alberature con azioni di conservazione e inserimento di nuove piante e la sostituzione dell'asfalto della viabilità con pavimentazioni drenanti per restituire valore storico al parco migliorando la conservazione nel tempo del patrimonio verde e rendendolo sempre più sicuro per i cittadini. Al parco di Villa Strozzi ci saranno interventi sul verde e sulle strutture, mentre ai giardini della Fortezza Dabbasso il progetto prevede di intervenire sui camminamenti, sulla vasca monumentale, sulle componenti vegetali. Per diminuire l'impatto del rumore il progetto prevede di intervenire sulla fontana in modo meccanico, aumentando e direzionando il getto in modo da creare un mascheramento sonoro.